E' stata approvata la legge che sposta il termine per utilizzare i voucher vacanza al 30 giugno del 2022, mentre per gli ultimi acquisti c'è tempo fino al 31 dicembre del 2021. La decisione è maturata allo scopo di tutelare i potenziali turisti che hanno già acquistato i voucher vacanza in relazione alle incertezze che derivano dall'emergenza sanitaria. Con questo nuovo provvedimento si può dunque estendere il termine entro i limiti temporali della durata dello stato di emergenza previsto dal Governo nazionale. La Giunta regionale, pertanto tenuto conto dell'evoluzione della pandemia, dell'eventuale dichiarazione dello stato di emergenza da parte del Governo, ma anche delle conseguenti restrizioni alla mobilità turistica, potrà fissare nuove scadenze per assegnare e fruire i voucher. Un provvedimento senza nuovi oneri per il bilancio regionale, ma che promuove il turismo. In primavera questo potrà essere uno strumento di rilancio innovativo e vincente per far conoscere il territorio.